Sapete che una gran parte degli ortodossi festeggia il 7 gennaio per fedeltà al calendario giuliano, il giorno di Natale, legandolo al battesimo di Gesù, ma non tutte le chiese ortodosse hanno questo calendario, come ci dirà tra poco il nostro ospite. Ma intanto, poiché è l'Epifania e poiché il nostro ospite è romeno, una colinda che è un canto tradizionale romeno eseguito dal complesso delle voci dei Carpazzi, dedicato appunto ai tre re magi, trei crai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.